Un evento per rivitalizzare il centro storico di Leporano. Sì, finalmente tanto aspettato musica nei vicoli, abbiamo voluto considerare questa opportunità di dare alla nostra comunità, ma a tutti i turisti che vogliono venire qui a Leporano a trascolare le loro vacanze, questa bellissima serata. Sei diverse postazioni hanno animato le vie del centro storico di Leporano, illuminate e percorse da cittadini e visitatori attratti da vicoli rivalutati e popolati da musicisti, artisti di strada e artigiani. Nella piazza cittadina il concerto per i giovanissimi e poi la galleria delle luminarie non sono mancate le postazioni Infopoint in supporto del pubblico. Tre Infopoint per accogliere tutta la cittadinanza e cercare di rendere musica nei vicoli una manifestazione accogliente e sempre bellissima nella sua esperienza. L'amministrazione Damiano Bis punta sul turismo e sulle risorse di un territorio che vuole valorizzare. Tutto questo per agliettare questo centro storico all'insegna dell'allegria e del divertimento. L'estate dell'eporanese continua, insieme a tutta la giunta abbiamo voluto fortemente questo appuntamento anche in musica nei vicoli.